Finisce senza né vinti né vincitori la sfida play-off tra Francavilla e San Giustese. Allo stadio vale Anzuca con la squadra di casa che si è fatta prevalere nelle fasi critiche dell'incontro. Difesa inedita quella schierata quest'oggi da mister Racchini, viste le tante indisponibilità in difesa con Bosco che prende posto sull'esterno, con Caffiero e Nazari a formare la coppia centrale. Il porta per la regola dei fuori quota va a Spataro. In avanti forfè dell'ultimo minuto di Cruzeb e Sanchez. In avanti Palumbo a supportare l'unica punta a Banegas. 4-2-3-1 anche per Sinigalliesi con Camillucci e Scognamiglio sulla mediana. Laringi, Pezzotti e Tizi dietro l'unica punta che dira. Arbitra il signor Vergaro di Bari. Presenti in tribuna ospiti illustri come l'ex arbitro Gianluca Paparest e la giornalista Mediaset Micaela Calcagno. Primi 15 minuti di studio dove accade poco nulla fino al diciottesimo quando si fa vedere per la prima volta il Francavilla con Banegas che non arriva all'appuntamento con il gol su cross di Direnzo. Al ventesimo è ancora Banegas che calcia fuori il passaggio di Paravati. Premia ancora a metà del primo tempo il Villa che ci prova di nuovo con Banegas ma il suo tiro a giro è deviato dalla difesa della San Giustese in angolo. Al trentesimo si fa vedere per la prima volta la squadra marchigiana con Chedira ma il suo tiro dall'interno dell'area di rigore finisce alle stelle. Passano due minuti e Tizi ha l'occasione per portare in vantaggio i suoi ma il suo tiro viene parato a terra da Spataro. L'occasione buona per il Villa si palesa al trentatreesimo quando Palumbo riceve da Banegas e dalla sua mattonella preferita fa partire il sinistro con la sfera indirizzata all'angolo basso dove si stende bene Chiodini e abbele a sventare la minaccia. Negli ultimi cinque minuti doppia occasione per il Francavilla la prima al quarantunesimo con Paravati che colpisce di testa su assist di De Costanzo che ci arriva Chiodini a deviare in angolo. Il numero uno marchigiano si ripete al quarantatreesimo su Palumbo che calcia dalla distanza ma il suo tiro è deviato in angolo. Finisce così la prima frazione di gioco. La ripresa parte con il Villa ancora in avanti nemmeno un minuto e la squadra giallorossa protesta per un atterramento in area di Paravati. Per Vergaro di Vari non ci sono gli estremi per il penalty. Al secondo ancora Palumbo da fuori aria ma il suo sinistro finisce a lato. Poi è Camillucci per la Sangiustese al quarto a provarci dalla distanza con un tiro al volo e super la risposta di Spataro. Iniziano i primi cambi con mister Sinigalliesi che richiama in panchina la Ringgettizi per perfetti argento. Al quarto d'ora passa in vantaggio la Sangiustese. Palla persa a centrocampo ne approfitta che dire che si invola verso la porta avversario con Spataro che lo atterra e per il signor Vergaro non ci sono dubbi a indicare il dischetto. Tagli undici metri è lo stesso numero nove a realizzare per il vantaggio della Sangiustese. Racchini corre a ripari ed inserisce Di Gioacchino per Paravati. Al sedicesimo ancora proteste per la squadra di casa per un presunto fallo di mani in area di rigore ospite. Fa proseguire il direttore di gara. Altri cambi per Racchini che butta nella mischia Cicirello e Gallo per De Costanzo e Di Renzo. Intorno alla mezz'ora un'occasione per parte. Ci prova il Villa con Banegas, il suo tiro è parato da Chiodini. Anche in questa occasione proteste dei giallorossi per un fallo di mano. Poi la Sangiustese con perfetti dal limite dell'aria con un gran tiro. Ottima la risposta di Spataro. Al trentatreesimo il meritato pareggio della truppa di Racchini. Angolo pennellato da Palumbo sul secondo palo dove Caffiero di testa insaccare alle spalle di Chiodini per il meritato pareggio. Da qui in avanti accade ben poco con le due squadre che si sono incontrate a viso aperto per tutti i 90 minuti. Secondo pareggio casalingo in casa per il Francavilla che ha da recriminare per alcune decisioni arbitrali da rivedere. E domenica altra gara difficile a Recanati contro la Recanatese. È stata una partita dove abbiamo espresso quello che sappiamo fare per grandi tratti della partita. Certo mancavano i due attaccanti che si sono fatti male nell'ultimo giro di allenamento e quindi questo non è fortuna. Poi io non parlo degli arbitri di solito però cominciano ad essere ripetitivi. La nostra è una delle squadre più corrette e abbiamo avuto sei rigori contro. Oggi io che non ne capisco di calcio ne ho visto due o tre a favore e non sono arrivati. Diciamo che c'è stata anche una nota di colore per lei oggi. Ha avuto ospite Michela Calcagno e l'albitro Paparesta? Sono amici e sono abituati ai grandi palcoscenici che per amicizie si cadono in questo piccolo posto. Io guardo sempre bicchiere mezzo pieno perché la mia squadra ha condotto il gioco dal primo al novantesimo quindi sinceramente non posso guardarlo mezzo vuoto. Quindi è una partita che secondo me abbiamo dominato, abbiamo preso il rigore che ci poteva stare, abbiamo pareggiato e poi ci sono stati negati due rigori clamorosi. Quindi più che dire che nel primo tempo abbiamo avuto tre o quattro situazioni importanti e più che dire che nel secondo tempo poi la partita l'abbiamo fatta noi, che cosa devo dire alla mia squadra? Avete perso Cruz e Sanchez prima della partita, forse su un campo così allentato e pesante una punta di peso avrebbe fatto molto comodo oggi? Sicuramente, abbiamo dovuto cambiare all'ultimo, abbiamo messo Banegas prima punta, abbiamo messo De Costanzo a destra ma io penso che anche così la mia squadra abbia fatto veramente una gara importante. Poi nel secondo tempo è entrato anche Di Giovacchino, insomma abbiamo cambiato tre o quattro giocatori, hanno fatto veramente tutti molto bene e ovviamente dispiace non portare questi tre punti a casa perché sinceramente sul campo penso che la mia squadra aveva meritato. L'avversario qui in casa ha concesso credo molto poco da quello che mi ricordo e quindi sapevamo che sarebbe stata difficilissima. Hanno avuto più occasioni, hanno avuto secondo me anche più forza per certi versi, soprattutto dopo il pareggio perché c'è stato un momento a cavallo del primo tempo che siamo riusciti comunque a gestire bene la palla e la partita, i tempi della partita però loro in maniera proprio vehemente sono venuti fuori fisicamente, ogni cambio era alto 1,85 su un campo pesante, in queste situazioni sotto fatica, considerando il periodo è chiaro che poi i duelli a livello muscolare li vincevano qualsiasi palla mettevano in verticale comunque vincevano i duelli di testa e quindi hanno guadagnato metri sul campo. Spesso il calcio si esamina in tante maniere ma poi si racchiude come un gioco rugby.